4 luglio 2015 siamo a Turate, una caldissima sera d'estate, caldissima, siamo alla festa del 25esimo della Prima Goccia, siamo con Oscar e Presidente. Oscar, raccontaci qualcosa sull'associazione La Prima Goccia. La Prima Goccia è un'associazione apolitica e laica che nasce appunto 25 anni fa, nel 90, da un gruppo di ragazzi turatesi, diciamo con un background da oratorio, dove hanno maturato appunto un'esperienza di organizzazione di festa dell'oratorio. Diventati grandi e usciti hanno voluto organizzare qualcosa in proprio e fare qualcosa di diverso e ispirati da un gruppo di meno giovani, due o tre personaggi meno giovani, hanno creato questa associazione che ha avuto per i primi 15 anni come Presidente Giovanni Regaldo, che purtroppo ci ha lasciato 10 anni fa e poi è continuata. La festa all'inizio non si faceva in quest'area, si faceva da un'altra parte e rappresenta comunque, diciamo, la fonte primaria di introiti della nostra associazione. Cosa fa la nostra associazione? Sostiene tutti i missionari turatesi che sono impegnati nei vari paesi del mondo, del terzo mondo, e li appoggia finanziando il loro operato, per cui progetti umanitari, costruzione di quello che a loro serve per portare avanti il loro operato e niente, essenzialmente è fondamentalmente questo, quindi una festa grossa con cui ricaviamo i nostri introiti e poi altre attività, abbiamo portato avanti altre iniziative tipo le adozioni a distanza che adesso noi facciamo. In questi 25 anni abbiamo maturato anche collaborazioni con tante associazioni, di turate anche da fuori. Giovedì scorso qua abbiamo fatto una bellissima serata, c'erano tutte queste associazioni con cui collaboriamo e che ci danno una grossa mano perché adesso se voi guardate questa festa accoglie veramente migliaia di persone che passano nelle sette serate, che sono i veri protagonisti, i veri attori, vengono, si divertono e ci permettono di raccogliere i soldi che poi noi destiniamo ai nostri missionari. Le associazioni turatesi ci danno una grossa mano, ci danno una grossa mano nel montaggio, ci danno una grossa mano a venire, a sua volta a tirare gente nella festa e per cui è una collaborazione con tutti che funziona benissimo. La prima goccia è questa, è un gruppo di donne della cucina che lavora qui da 25 anni, di pensionati che vengono qua a montare le strutture, stanno tutto il giorno e perdono il loro tempo e energie per far sì che tutto questo accada. Questi signori stanno lavorando interrotamente dalle 18 e andranno avanti fino alle 22 per permettere a oltre 1500 persone di venire servite in pura beneficenza. C'erano 50 kg di pesce ogni ora, siamo in mezzo alle piastre, alle cotture, c'è una temperatura esagerata, apprezziamo veramente tantissimo il lavoro dei volontari. Fondici un po' la giornata qua sotto, la serata qua dentro? Molto dura diciamo, inizia dal pomeriggio tardi e finisce fino a quando spigliamo l'ultima birra, verso le 3 alle 4 del mattino comunque. Le 3 alle 4 del mattino, mica male, quante birre spillate, quante ne avete intenzione di spillare questa sera? Settimana scorsa abbiamo fatto fuori 1800 litri di birra, questa settimana qua secondo me prevedo almeno altri 2000 litri di birra. Questa in sintesi è la prima goccia. Noi abbiamo un sito internet sempre aggiornato, è www.laprimagoccia.it Per informazioni c'è info.laprimagoccia.it e seguiteci anche su Facebook, la prima goccia come la prima goccia.